Amici, ad una settimana soltanto di distanza dall'intervista al professor Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, eccoci di nuovo a voi con una nuova puntata di Qui Peneta Terra. Buon pomeriggio, Ludovica. Buon pomeriggio, Mauro. Buon pomeriggio, cari amici. Allora, nella precedente puntata con Paolo Maddalena, come dicevamo, abbiamo affrontato il tema del sistema economico-politico neoliberista, sistema distruttivo che sta vedendo le democrazie di moltissimi paesi nel mondo violate e imbavagliate in favore del potere dei mercati e della finanza. Mercati e finanza che sono ormai in grado di imporre alla politica le scelte da operare e le leggi persino da erogare. Tutto questo ovviamente nell'ottica del loro interesse particolare, non nell'interesse della collettività o delle popolazioni. Sì, infatti con il professor Maddalena abbiamo visto come purtroppo la classe politica italiana abbia permesso alle banche e le grandi imprese multinazionali di acquisire un grande potere sul nostro paese e non solo, un potere autonomo distaccato dalla volontà popolare e democratica. Viviamo quindi in un'era post-democratica, in un'era retta dalla volontà dei mercati della finanza, vero Mauro? Esattamente purtroppo, un'era post-democratica decisamente. Dunque abbiamo assistito alla cessione di potere alle grandi banche, abbiamo ceduto, ricordiamo, la nostra sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea che ci presta denaro da restituire con interessi e che ricordiamo è pur sempre un ente privato e non pubblico. Assistiamo alla finanziarizzazione dell'economia, è già avvenuto, è già per lo più finanziaria l'economia mondiale, per l'80% è economia finanziaria, cari amici. Al discapito dell'economia reale, delle persone comuni, creazione di denaro dal nulla e altro tema importante caratteristico del neoliberismo, privatizzazione sfrenata, come è avvenuto anche nel nostro paese in Italia, dell'industria pubblica. Ricordiamo INA, ENI, ENEL, IRI, tutte aziende pubbliche italiane che sono state messe in vendita, praticamente facendoci guadagnare poche lire soltanto, un'operazione che in realtà tutte aziende queste che erano state messe su con soldi pubblici, soldi degli italiani, sono state svendute e hanno lasciato il paese impoverito e privato di quel guadagno annuale che proveniva appunto da queste imprese pubbliche. Sì, come abbiamo visto il sistema neoliberista opera contro la sfera di ciò che è pubblico a favore di quanto è privato, quindi va contro lo stato sociale e l'incentivazione di politiche sociali, quindi significano scuola pubblica di qualità, incentivazione delle politiche del lavoro e tutela dei lavoratori, una sanità che funzioni e sia veramente al servizio del cittadino. In una parola, l'attuale sistema economico lea liberista opera contro la tutela dei diritti della popolazione e a favore degli interessi dei privati, egoistici, interessi predatori di una oligarchia di super ricchi, quando invece la nostra Costituzione, rimarchiamo, stabilisce che è il popolo ad essere sovrano e non il mercato finanziario. Assolutamente, ce lo ricorda, così avrebbe voluto la nostra Costituzione, infatti molte delle misure, delle leggi che noi accettando del nostro ingresso in Europa, firmando i trattati di Maastricht e Lisbona, abbiamo sottoscritto come classe politica italiana, sono completamente anticostituzionali. Quindi appunto il popolo è sovrano, ma la volontà di questo popolo sovrano, come abbiamo visto, non è più motivo di interesse nell'attuale sistema. Ebbene, allora, vogliamo continuare a riflettere su queste cose, quindi a riflettere su che cosa cari amici? Sui nostri diritti naturali, che dovrebbero essere sacri, tutelati per ogni essere umano. E la nostra riflessione anche sul tema economico e sulla creazione di denaro, non perché siamo fissati col denaro cari amici, anzi tutt'altro, se fosse possibile ne faremmo volentieri a meno, ma perché è attraverso le leve dell'economia del denaro purtroppo in questa società, che l'essere umano è fortemente condizionato, fortemente condizionato cari amici, a vivere in assenza di diritti, di beni, spesso di prima necessità, costretto a vivere in uno stato, diciamo, di schiavitù economica, che lo tiene occupato tutto il giorno, magari per poter guadagnare solamente il minimo necessario. Bene, quindi parleremo di tutto questo insieme al nostro ospite, promotore di un'iniziativa molto originale, da sempre per professione si occupa del benessere dell'uomo, è un osteopata e come tale quindi ricerca la causa delle malattie che principalmente colpiscono l'uomo e ha visto tra le sue ricerche come una delle cause primarie delle patologie sia lo stress ed afferma che la gente più stressante per l'essere umano è il rapporto che questi ha con il denaro. Quindi ha cercato di capire la causa di questo stress per poterne trovare una soluzione. Per cui ai suoi studi in campo medico ha voluto affiancare e approfondire lo studio del sistema economico e monetario attuale con una particolare attenzione ai sistemi di creazione della moneta. Esatto, stiamo parlando di qualcosa di molto interessante, cari amici, perché approfondendo quanto ha detto Ludovica, inoltre approfondendo anche gli aspetti giuridici che riguardano i diritti umani e la loro tutela, ha deciso, udite udite, di dare il via ad una iniziativa che è quella della creazione di una vera e propria banca virtuale, esattamente la GST Virtual Bank, una banca che ha creato con finalità filantropiche di aiuto all'essere umano e alla società umana, ma ne parliamo direttamente con lui. Si tratta del dottor Gian Giacomo Savugin, già con noi in collegamento. Buon pomeriggio su qui pianeta terra a Gian Giacomo Savugin. Buon pomeriggio a voi telespettatori, agli ascoltatori. Ringrazio dell'invito, sono a disposizione per rispondere alle vostre domande e ai vostri quesiti. Benissimo Gian Giacomo, benvenuto, ben arrivato ai nostri microfoni, grazie per aver accettato il nostro invito ovviamente. Bene, grazie Gian Giacomo, anche da parte mia, buon pomeriggio. Allora abbiamo detto che dal tuo lavoro di osteopata hai scoperto che la causa principale delle malattie umane è lo stress, soprattutto quello del derivante dal rapporto che l'uomo ha con il denaro. Quindi una volta identificata la causa, dopo aver studiato come questa agisce sull'uomo, hai voluto ricercarne la cura con la proposta di cui tra poco ci parlerai, che ci aiuterebbe a superare definitivamente questo problema. Ci puoi relazionare, dire effettivamente che cosa consiste questo tipo di rapporto col denaro che noi abbiamo, che ci fa ammalare e poi quindi andiamo a vedere come possiamo risolvere questo problema? Sì, allora innanzitutto bisogna introdurre la metodologia che è stata usata. La metodologia utilizzata per questo studio è stata altamente scientifica, in quanto come osteopata ho utilizzato i principi dell'osteopatia che dichiarano che l'essere umano è un'unità di mente, corpo e spirito. Quindi abbiamo applicato questi principi al sistema economico e al sistema sociale. e ci siamo accorti che il sistema economico in particolare mette al centro, al vertice di questo sistema, il sistema stesso, non l'essere umano. Quindi abbiamo effettuato delle ricerche, sempre appunto con metodologia scientifica, quindi attraverso il discernimento abbiamo raccolto i dati e questi dati sono stati uniti attraverso un sistema logico e chiaramente noi ci aspettavamo di ottenere un risultato positivo in favore dell'essere umano e quindi questa è la parte della metodologia scientifica della fiducia e della fede di trovare un risultato che va anche a influenzare la ricerca stessa favorendo il risultato stesso. Quindi effettuando appunto questa valutazione con metodologia scientifica ci siamo accorti che l'essere umano ha un errore. Nel senso, se noi appunto consideriamo l'essere umano e questa unione di questi tre elementi, quindi dello spirito, della mente e del corpo, ci siamo accorti che c'è un errore di trasmissione tra le informazioni dello spirito e le informazioni della mente. Nel senso, l'essere umano in qualità di entità biologica ha un principio di autoconservazione proprio e questo principio di autoconservazione serve per appunto autoconservarsi, quindi evitare dei traumi che possono ledere all'entità biologica stessa. Mentre la parte spirituale è la parte che deve evolversi attraverso l'entità biologica corpo umano mente, la mente fa da tramite e quindi l'essere umano, lo spirito deve utilizzare questa entità biologica per evolversi e per evolversi deve aiutare il prossimo in maniera tale da poter soddisfare i bisogni evolutivi dello spirito stesso. Cosa accade però? Nella società nella quale ci troviamo, all'interno della quale c'è questo sistema e al full core del sistema c'è il sistema economico, ecco che si crea, c'è questo blocco di trasmissione tra appunto lo spirito e la parte biologica, essere umano corpo e mente, per cui predomina lo spirito di autoconservazione e in una società come la nostra nella quale appunto al vertice troviamo il sistema economico e quindi la moneta, l'autoconservazione è quella di mantenere, mantenere la moneta e accumularla per poter soddisfare i bisogni del corpo e della mente e quindi questo principio di autoconservazione va a ledere e va ad inibire l'evoluzione dello spirito, lo spirito è il donare agli altri attraverso un atto d'amore e questo atto d'amore provoca appunto una creazione. Certo, ottima la spiegazione, tra l'altro appunto come dici tu prevale quindi nella nostra società, magari è una cosa anche ovvia forse quella che stiamo dicendo, però è importante anche sottolineare come prevalga l'aspetto ovviamente materialista. Nella società prevale un aspetto materiale, ma appunto perché dallo studio che abbiamo effettuato e soprattutto anch'io dallo studio clinico di più di dieci anni di attività di osteopata, quindi studiando bene come funziona l'entità biologica e sull'umano anche dal punto di vista neurovegetativo e neurofisiologico, c'è proprio questo blocco che impedisce al vero utilizzatore dell'entità biologica che è lo spirito, dell'eternessenza, di evolversi in quanto il principio di autoconservazione che diventa un principio materialista, quindi di accumulo della materia, sopravvale rispetto alla parte spirituale che invece è il vero essere e la vera essenza. Per cui noi saremmo stati creati come esseri più evoluti, perlomeno in cima alla catena diciamo. Esatto, tenere in considerazione che è fondamentale è che la parte, cioè lo spirito, quindi l'eternessenza, non ha solo un valore se possiamo, magari se chi non ha mai sentito parlare di questi argomenti potrebbe non comprendere o potrebbe non accettare queste soluzioni o anche questa visione spirituale della realtà. Sta di fatto che l'essere spirituale ha anche un valore commerciale internazionale in quanto sono state effettuate nel marzo del 2013 delle registrazioni presso l'Uniform Commercial Code che è il codice del commercio uniforme di Washington in America e che quindi è la Bibbia che regola tutti i contratti commerciali internazionali, sono state registrate appunto dei documenti da parte di alcuni avvocati di cui ricordo Etertucci Yaraf attraverso un trust chiamato One People Public Trust nel quale appunto è stato dichiarato che tutto ciò che esiste è eterna essenza, quindi sia gli esseri umani sia ogni cosa è eterna essenza, quindi si è dato dal punto di vista commerciale internazionale un valore spirituale a tutto ciò che è materiale, quindi lo spirito, il fatto che lo spirito permi la materia è stato anche registrato dal punto di vista commerciale internazionale, in più dal punto di vista giuridico per quanto riguarda lo Stato italiano, quindi la Costituzione italiana nell'articolo 4 della Costituzione italiana è scritto nella seconda parte che ogni cittadino ha il dover di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società, quindi lo spirito è riconosciuto anche dal punto di vista giuridico per quanto riguarda attraverso appunto la Costituzione italiana, quindi non si può negare perché è appunto una valenza commerciale internazionale come abbiamo visto e anche giuridico in quanto è richiamata dalla Costituzione italiana. Benissimo, quindi Gian Giacomo è molto importante questa cosa che hai detto, hai parlato quindi comunque di, abbiamo visto come i diritti dell'essere umano, delle popolazioni, dei cittadini sono calpestati dall'attuale sistema socio-economico. Abbiamo visto che però invece la nostra Carta Costituzionale, come anche la risoluzione dell'ONU, come anche la Carta dei diritti inalienabili dell'uomo, che sono carte di diritti internazionali, contemplino la dimensione, la sfera del diritto umano come sacro che deve essere tutelato. Vista questo stato di cose che sulla carta ci mettono e ci riconoscono di avere dei diritti, visto che poi invece vengono puntualmente calpestate e ignorate queste carte e questi diritti, che tipo di risposta, parloci della creazione di questa GST Virtual Bank, della Gian Giacomo Savogin Trust Virtual Bank? Sì, allora, noi abbiamo appunto, sempre con il metodo scientifico spiegato prima, analizzato come avviene dal punto di vista economico la creazione o l'emissione di denaro e ci siamo accorti di quanto segue. Uno, che le banche principali, quelle più antiche e quelle che fanno capo alla grande finanza mondiale, hanno tutte il nome proprio di una persona e quindi probabilmente del fondatore. Quindi abbiamo deciso di utilizzare come nome della banca appunto il nome mio, quindi Gian Giacomo Savogin Trust. Perché? Perché siccome c'è un discorso un po' complesso e lungo, cercherò di sintetizzarlo il più possibile. Sì, assolutamente. Sì, esatto. E siccome appunto noi abbiamo cambiato status giuridico, quindi non ci riconosciamo più come cittadini italiani, come funzione giuridica, ma abbiamo creato un Livi Trust di Gersi autodichiarato sul nome, Gian Giacomo Savogin Trust in quanto appunto è stata effettuata questa autodeterminazione riguardo il nome. Quindi Gian Giacomo Savogin Trust è per questo. Virtual Bank in quanto banca virtuale, perché non è una banca commerciale con gli sportelli come quelle che si vedono. Appunto il desiderio di fondare questa banca è stato effettuato per creare una contrapposizione economica dal punto di vista filantropico, in quanto il GST Virtual Bank, il suo scopo è di creare moneta appunto per fini filantropici, quindi per finanziare progetti culturali, per finanziare vari progetti appunto di alto scopo umanitario e per poter fare in maniera, per promuovere appunto i diritti umani e le libertà fondamentali. Così come è richiesto dalla risoluzione ONU che è stata richiamata prima, che è la ARS 5344 dell'8 marzo 1999, nella quale nel prologo, nell'ultima parte del prologo, è proprio scritto che ogni individuo ha il diritto e la responsabilità di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, quindi è una responsabilità individuale che ognuno dovrebbe sentire dentro di sé, appunto una volta che prende coscienza che l'essere è uno spirito all'interno di una macchina che è l'entità biologica e poi se non sente questo, se non sente questa sensazione spirituale, questo impulso non la sente perché appunto c'è questo blocco, questa stasi a livello mentale, fisico, che non permette la corretta connessione tra appunto la parte spirituale e la parte materiale dell'essere umano che è l'entità biologica corpo. Giusto, benissimo. Quindi tu hai detto avete creato questa banca per fini filantropici, quindi per fare quello che lo Stato non fa, che le banche non fanno perché… No, perché appunto come abbiamo detto prima… Esatto, il fatturato maggiore delle banche sono i finanziamenti che danno alle industrie belliche, che appunto è quindi per creare armi, per creare violenza, per creare guerra, per creare distruzione di massa e quindi noi abbiamo creato questa banca appunto per opporci a questo sistema. Esatto, per questo sistema che appunto privatizza tutto, quindi come privato chiaramente fa il proprio interesse, come dice la parola stessa, privato, quindi fa proprio l'interesse di un individuo, di una persona o di pochi e non di molti. Quindi tu attraverso, tu e il tuo staff attraverso questa banca invece cercate di fare l'interesse della collettività, quindi attraverso appunto una moneta che si oppone a quella del sistema. Ce ne puoi parlare? Non si oppone, è la stessa moneta del sistema. Però si differenzia nel senso… Il fine per cui viene creata è quella la differenza. Anche perché vi spiego appunto studiando l'argomento economico e giuridico si può poi semplificare. Dal punto di vista molto pratico la maggior parte della moneta circolante è moneta bancaria creata dal nulla. Quindi cosa accade? Nel momento in cui un individuo, un essere umano o un individuo autodeterminato chiede un finanziamento o un mutuo a un istituto bancario, questo istituto bancario avendo una riserva frazionaria, quindi una piccola percentuale della richiesta del mutuo o del finanziamento, crea il restante, la restante moneta la crea dal nulla e quindi diventa moneta bancaria. Quindi c'è un'operazione di creazione. Dopo che c'è stata questa operazione di creazione, il soggetto appunto che ha firmato, quindi la banca crea la moneta con la firma del soggetto che ha firmato questo contratto. Poi questo soggetto dovrà pagare anche degli interessi che però non esistono nel mercato, quindi è già una frode. In più è anche un contratto con vizi occulti perché il banchiere non spiega al soggetto che sta firmando che la moneta verrà creata con la sua firma. Allora noi per semplificare cosa facciamo? Stiamo creando appunto una procedura nella quale il soggetto creerà direttamente moneta e la versare in banca e quindi si saltano dei passaggi, si saltano gli interessi perché tanto gli interessi non ci sono in commercio e servono solo ed esclusivamente al fine di creare competizione tra gli esseri umani in maniera tale che l'essere umano che comunque vuole onorare il proprio debito dovrà attivarsi a livello concorrenziale con altri esseri umani per ottenere quella moneta che in circolo non c'è per poter onorare il proprio debito, però qualcuno l'onorerà e qualcun altro no. Certo, sottolineerei il fatto che già da diversi decenni non c'è più l'obbligo, perché magari qualche ascoltatore potrebbe non sapere, non c'è più l'obbligo per la creazione di denaro, che ci sia un corrispettivo in beni, in beni auriferi, ad esempio come era prima, cosa che questa qua è stata nel 1971 da Nixon, è stato tolto questo obbligo. Questo comporta quindi che possiamo dire anche usare la parola arbitrariamente o comunque insomma che le banche, le quali si arrogano tra l'altro l'esclusiva di poter fare questa operazione, le banche possono creare denaro dal nulla, quindi magari a qualcuno questo passaggio di cui tu hai parlato della creazione di denaro della banca attraverso la firma del cliente che va in banca a richiedere un mutuo, può magari non essere del tutto chiara, se ci puoi spiegare meglio come funziona questo meccanismo della creazione della somma richiesta di mutuo attraverso la firma del cliente che va in banca, come funzionerebbe? No, funziona molto semplice che quando il cliente ha firmato ci sarà qualche dipendente della banca che digiterà in un conto corrente la somma con le dita e quindi quella somma è stata creata, a conferma di quello che hai detto prima che non c'è più corrispondenza tra massa monetaria e riserva aurea, noi abbiamo anche il decreto di archiviazione di un giudice di una denuncia che abbiamo posto noi appunto sempre per queste procedure di moneta scritturale dove appunto anche il giudice dichiara che non c'è più questa corrispondenza tra riserva aurea e moneta circolante. Quindi ci prestano un denaro che non esiste, lo scrivono sul computer. Esatto, esatto. Ma approfondendo l'argomento è questo che dobbiamo capire, che chi è che scrive, c'è un'entità che scriverà, digiterà la cifra, quindi questi numeri in un conto corrente perché la moneta alla fine non è un mezzo, numeri elettronici, ma sono numeri elettronici. L'atto nel quale questi numeri elettronici vengono immessi in un terminale non è un atto effettuato da un mezzo meccanico oppure da un logaritmo oppure da un altro sistema artificiale, è effettuato da un essere umano, quindi da un operatore che è un essere umano. Quindi essendo un essere umano che digita, qualsiasi essere umano può digitare, a prescindere dal fatto che svolga una funzione di dipendente bancario o che svolga qualche altra funzione, è l'essere umano che digita, quindi chiunque essere umano può digitare. Questo mi sembra abbastanza logico, è molto semplice anche. E quindi può creare, anche se poi magari più tardi la Banca d'Italia dice che non è così, poi magari lo riprenderemo questo discorso. No, per quanto riguarda la Banca d'Italia che dice che non è così, innanzitutto, sì, noi avevamo appunto preso contatti con la Banca d'Italia prima che uscisse questa dichiarazione dove è scritto che appunto i cittadini non possono creare, non possono... Scusa, faccio una breve premessa perché magari non tutti lo sanno, appunto c'è un comunicato, siccome molti cittadini come Gian Giacomo hanno fatto la proposta di creare questa moneta scritturale, allora la banca se ne è vista un po' troppo dice alt, quindi dice questa cosa non si può fare, questa è solo prerogativa della Banca d'Italia, il cittadino no e ha messo tutto un elenco allincato di regolamenti. Ma è proprio così Gian Giacomo? No, non è così, in quanto uno, la Banca d'Italia, se leggete bene il comunicato, utilizza come sinonimi emissione e creazione e cerca di fare anche un po' di confusione tra questi due sinonimi. Emissione, per il suo significato intrinseco dal punto di vista semiologico, significa che viene emesso qualcosa avendo una riserva alle spalle, mentre la creazione è la creazione dal nulla, quindi non si annulla e si crea. Il famoso Fiat Money, luce fu, creazione istantanea di denaro senza un corrispettivo fisico esistente nei forzieri della Banca. Infatti, mentre l'emissione è normata dal TUB e da altre leggi della BCE, la creazione non è normata e non potrà mai essere normata, in quanto la creazione è insita nell'essere umano, l'essere umano è un ente creativo, è un soggetto creativo e quindi può creare dal nulla, nessuno, non ci può essere un impedimento è una dote naturale, no? È una dote naturale la creazione. Quindi, ritornando al comunicato della Banca d'Italia, a parte che non si sa chi l'ha scritto, quindi può essere anche che l'abbia scritto il postino o il portinaio, perché non è firmato, non è specificato chi l'ha scritto. In più, non ha alcun fondamento dal punto di vista giuridico e questo è stato appunto dichiarato da una sentenza della Corte di Cassazione. Adesso, se volete, vi do anche il numero della sentenza della Corte di Cassazione. Sì, così almeno chi vuole se ne può accertare, può verificare. Eccola qua, il numero 46669, barra 2011, che recita che le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nell'ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita della Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato. Quindi, cosa significa? Significa che nel momento in cui un cittadino o un essere umano o un soggetto autodeterminato crea moneta scritturale e la invia la banca e la banca non contabilisce questa creazione appunto con un modulo nel quale viene effettuata una contabilizzazione corretta con un mastrino monetario e questa contabilizzazione viene inviata all'agenzia delle entrate, nel momento in cui la banca riceve questo materiale e non lo contabilizza, commette false scritture societarie e quindi false in bilancio. Deve per forza contabilizzare. Quindi reato penale. Sì, o lo contabilizza, non è più penale, è stato penalizzato, però o lo contabilizza o lo storna, non ci sono altre alternative. Ho capito, capito. Quindi praticamente hai descritto quello che avviene nel momento, cioè come avverrebbe praticamente il deposito sul conto bancario di un eventuale cliente della Gian Giacomo Savo Gintrust Virtual Bank? No, 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 scusate, noi non abbiamo clienti, noi stiamo creando delle procedure che rendiamo pubbliche in modo tale che ognuno sia indipendente. Esatto, se no si ritorna sempre al sistema di prima dove c'è qualcuno che comanda e gli altri che devono seguire le indicazioni, invece noi vogliamo mettere a disposizione di tutti le procedure, se indipendente e poi chi avrà difficoltà magari, in quel caso lì, terremo dei seminari oppure delle consulenti. Siamiamoli fruitori, fruitori del vostro servizio. Ce ne puoi parlare Gian Giacomo, di questa procedura che avete messo in atto? Sì, allora, la procedura è questa. Noi abbiamo una procedura iniziata già il 6 luglio, nel quale dopo un avviso della Banca d'Italia per quanto riguarda il nostro nome, abbiamo risposto alla Banca d'Italia e ai vari ministeri che eravamo a disposizione con la nostra banca GST Virtual Bank e con un altro organismo monetario extraterritoriale che abbiamo fondato, che è Gian Giacomo Savogin, agente carante di moneta scritturale, eravamo a disposizione con questi due organismi a saldare il debito pubblico italiano, eravamo disponibili anche a promuovere le iniziative, promuovere dal punto di vista filantropico, quindi finanziare, a fondo perduto, tutte le iniziative del governo sempre in favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali, però non abbiamo ricevuto risposta, quindi abbiamo proseguito noi con le nostre procedure e abbiamo inviato quindi una proposta di contratto unilaterale, sempre a tutti gli enti e preposti quindi ai vari ministeri, alla Banca d'Italia, alle Corte dei Conti, una proposta di contratto unilaterale secondo l'articolo 1333 e seguente del Codice Civile. Questo articolo cosa comporta? Comporta che si invia una proposta di contratto unilaterale, l'accettazione avviene secondo quanto affermato da due grandi giuristi che sono Rodolfo Sacco e Giorgio De Nova, il contratto, quindi questo istituto giuridico viene accettato nel momento in cui non c'è una negazione, non c'è un valido rifiuto, quindi non è tanto il silenzio assenso che rende l'accettazione contrattuale, ma è proprio la mancanza di un valido rifiuto. Quindi di una contestazione insomma? Sì, di una contestazione, quindi noi appunto abbiamo nel contratto che si può trovare, dopo vedremo dove, abbiamo inserito delle premesse, delle considerazioni, quindi abbiamo aggiunto le norme commerciali internazionali dell'UCC, quindi dell'Uniform Commercial Code, abbiamo inserito alcuni articoli della Declarazione dei Diritti Umani, abbiamo aggiunto alcuni articoli della risoluzione ONU-ARES 53-144, alcuni articoli specifici della Costituzione italiana, poi anche abbiamo aggiunto le ordinanze dei vari tribunali che favoriscono la creazione di denaro attraverso la moneta scritturale, poi abbiamo aggiunto anche delle leggi per quanto riguarda l'inclusione finanziaria, che è quel complesso di attività sviluppate per favorire l'accesso ai servizi bancari di soggetti e organizzazioni non ancora del tutto integrati nel sistema finanziario ordinario, quindi in cui rientrano sicuramente i soggetti che creano moneta scritturale. Abbiamo aggiunto anche il decreto legislativo del 25 maggio 2017 numero 90, che la legge anti-riciclaggio, in quanto la creazione di moneta scritturale da parte degli esseri umani o dei cittadini è la miglior forma di anti-riciclaggio, in quanto si conosce la provenienza del denaro. Sicuramente non proviene da fonti illecite. Appunto, viene creata sul momento e quindi abbiamo inviato appunto questa proposta di contratto dove noi proponiamo una regolamentazione della creazione di moneta scritturale per determinate finalità filantropiche e anche per il soddisfacimento dei diritti umani basilari e delle libertà fondamentali. Quindi abbiamo inviato, abbiamo aggiunto anche l'individuo al quale è permesso e a quelli è vietato, ad esempio è vietato sicuramente a chi ha subito delle condanne superiori a 5 anni, poi anche a chi ha subito condanne per mafia e anche a chi riveste incarichi politici o abbia dei vitalizi per conflitto di interesse e anche perché secondo noi chi svolge un'attività politica dovrebbe svolgerla non con fine economico e quindi di guadagno, ma dovrebbe svolgerla per un alto scopo umanitario e per altri valori etici. Quindi è corretto il rimborso spese e però non un guadagno durante il mandato. Benissimo, quindi abbiamo visto quali sono… Scusate, abbiamo aggiunto il termine alle condizioni e appunto non abbiamo ricevuto risposta in termini alle condizioni, quindi questa proposta di contratto unilaterale è stata accettata e quindi il contratto è accettato. Benissimo, questo è molto importante appunto sottolinearlo, non è arrivato un rifiuto con valida ragione. Esatto, esatto. Allora abbiamo detto quali sono coloro che non possono fruire di questo servizio, invece c'è chi può fruirne? Allora, può utilizzare questo contratto, quindi queste procedure che usciranno nei prossimi giorni, chi è maggiorenne, perché chi è maggiorenne? Perché con la maggiorità si acquisisce quella che nell'articolo 2 del codice civile è definita capacità di agire e quindi la capacità di produrre atti enormi senza l'interposizione di terzi, quindi una volta acquisita la capacità di agire si può appunto creare la moneta scritturale. Benissimo. Poi essere residente in Italia o nella penisola italica da almeno 10 anni, questo perché? Innanzitutto perché per evitare che ci siano infiltrazioni esterne, magari noi viviamo nella zona di confine, ma se pensiamo alle zone di confine, quindi Francia, Austria, Svizzera e Slovenia, se si sparge la voce magari questi individui vengono nel nostro territorio per creare moneta e per appunto creare e quindi il territorio non sarebbe in grado di soddisfare le esigenze di tutti, quindi sarebbe meglio esportare questo sistema. però allo stesso tempo verrebbero richiamati in patria chi è andato a vivere all'estero perché avrebbe questa opportunità di creare moneta scritturale, quindi un richiamo dei cervelli che sono emigrati all'estero, un richiamo all'interno della penisola italica. Poi essere incensurato e poi chiunque voglia destinare comunque, se si interpreta bene la filosofia della banca, chiunque voglia comunque creare, avere uno scopo filantropico, ma lo ricordate può essere anche semplicemente, se si versa in condizioni di disagio economico, anche quello indirizzato nei confronti di se stessi per poter fare fronte a quelli che sono gli impegni necessari per la propria vita, gli impegni e quindi aiutare anche noi stessi se abbiamo delle difficoltà economiche nell'avere una casa, nel poter rispondere alle nostre esigenze anche di prima necessità ovviamente, correggimi se sbaglio. No, mi riallaccio all'introduzione che abbiamo effettuato, perché succede così? Allora, noi nella nostra proposta abbiamo scritto che questa moneta scritturale può essere utilizzata per il pagamento a saldo di debiti reali o presunti con il banco e il fisco, poi il pagamento di un acquisto e per un acquisto di una prima casa in classe energetica A+, di modo tale ecologica, quindi. Sì, ecologica, esatto. Il pagamento per l'acquisto di un'auto ibrida o elettrica, sempre dal punto di vista ecologico, poi per il pagamento delle tasse, dei tributi di qualsiasi genere e per ricaricare il proprio conto corrente per le spese quotidiane nel rispetto ai diritti umani e anche per donare in beneficenza. quindi, se voi vedete, tutti questi punti sono a livello gerarchico, servono perché per ridare un equilibrio a quello che abbiamo spiegato prima è un blocco dal punto di vista spirituale e di corpo mente. Perché? Perché appunto questo, dagli studi che abbiamo effettuato, risulta questo, che questo blocco, quindi questo incremento del principio di autoconservazione spinge l'essere a soddisfare i propri beni, i propri bisogni, è ad accumulare, è ad accumulare. Perché? Perché appunto c'è questo principio di autoconservazione e questa paura della perdita, tant'è che la paura della perdita è superiore dagli studi che hanno effettuato alla capacità, al desiderio del guadagno, la paura della perdita è molto superiore. Quindi questa paura della perdita è proprio, possiamo definire questo contratto, una specie di terapia per l'essere utilizzando la moneta, utilizzando il sistema economico, perché come facciamo? Noi aiutiamo l'essere spirituale incarnato a soddisfare tutti i suoi bisogni primari, quindi ad avere una casa, un mezzo per potersi muovere, soddisfare i propri bisogni nel rispetto a tutti gli umani, quindi cibo, bestiare utenze, però allo stesso tempo gli diamo la possibilità evolutiva e quindi una volta che l'essere soddisfa i propri bisogni, ecco che interviene il pagamento per donare beneficenza, quindi per aiutare gli altri, in modo tale che lo spirito non rimanga vincolato all'interno di un circuito, per soddisfare solo le proprie esigenze, ma per aiutare gli altri esseri umani o gli altri spiriti, in modo tale da favorire la sua propria insità e evoluzione. Benissimo, aspetto altruistico spirituale. Ricordiamo Gian Giacomo che è importante, visto che oramai appunto sono trascorsi 30 giorni, quindi non c'è stata alcuna contestazione da parte delle autorità, da parte del governo, quindi ricordiamo ai cittadini che vogliono soffrire di questa procedura che il governo stesso, quindi lo Stato e l'ufficio delle entrate sono diventati in questo modo, quindi non contestando questa procedura, garanti di questa moneta stessa. Sì, esatto, perché noi abbiamo messo come garanzie... Come ci hai spiegato tu, nel senso che la riconoscono e garantiscono la legalità, l'ufficialità... La creazione di denaro è data, la garanzia quindi collateral, sono dati dal Ministero del Tesoro e dalla Banca d'Italia, perché appunto non hanno confutato e quindi questa creazione è garantita da... Benissimo. Esatto. Ora cosa succede? Come prosegue la cosa? Ora, sì, allora da oggi c'è un'istanza, quindi una richiesta che andrebbe depositata nel comune di residenza o anche in altri comuni e in questa istanza si chiede al comune, aggiungendo, allegando il contratto, si chiede al comune di tenere degli incontri con i cittadini appunto per spiegare questa proposta di contratto e quindi per spiegare questa moneta scritturale. Questa istanza va depositata in comune e poi va depositata dal comando dei carabinieri vicino del comune di modo tale da rendere a conoscenza anche i carabinieri di questa procedura, anche perché i carabinieri stessi e i soggetti che lavorano in comune possono trarre beneficio perché anche loro possono utilizzare questa procedura di moneta scritturale, a parte chi? Il sindaco a cui è indirizzata l'istanza e tutti i politici del Consiglio Comunale. Sì, ma perché è importante Gian Giacomo che si conosca questa procedura, che venga utilizzata? È importante anche perché? È importante perché ormai sono già centinaia le persone che utilizzano la moneta scritturale, noi adesso stiamo cercando appunto di trovare il metodo migliore. Però è importante perché creando la consuetudine, la consuetudine fa legge e quindi diventa legge e quindi deve per forza essere accettata dalle banche che non possono più fare il muro di gomma e quindi o non rispondere o rispondere in maniera avversiva a queste procedure di moneta scritturale da parte degli esseri umani, dei cittadini o dei soggetti autodeterminati. Quindi funzionerebbe così, in sostanza un po' ricapitolando, si presenta l'istanza, come hai detto, la si notifica ai carabinieri e all'ufficio comunale dove viene protocollata, giusto? Per questa istanza sono presenti dei moduli sul sito, sul blog, sulla pagina Facebook della GST Virtual Bank che poi insomma vi ricorderemo anche se siamo a Ludovica. E poi quindi sostanzialmente quale sarebbe il meccanismo attraverso cui noi ci richiamo in banca per poterci accreditare, se giusta la parola che sto usando, una determinata somma che ci serve per scopi filantropici? Questa è una procedura che verrà divulgata nei prossimi giorni perché appunto stiamo cercando la soluzione migliore e quindi appunto è una procedura che uscirà in seguito perché se usciamo con tutti i documenti poi si crea confusione. No, certo, certo. Quindi nei prossimi giorni appunto dovete seguire le indicazioni che verranno date dopo da Ludovica dei nostri siti di modo tale che appunto vedrete le comunicazioni che verranno date nei giorni prossimi. Ricordo inoltre che ieri, no, qualche giorno fa abbiamo depositato all'Uniform Commercial Code un financial statement dove appunto abbiamo dichiarato per pubblicità giuridico commerciale internazionale che appunto il contratto è stato accettato e quindi che i cittadini e gli individui autodeterminati residenti nella perisola italica possono creare euro fiat, quindi a corso legale o qualsiasi altra moneta in qualsiasi altra valuta in quanto noi con questa procedura già da quando abbiamo inviato la proposta di contratto abbiamo seguito ciò che avveniva a livello economico nazionale e internazionale e appunto ci siamo accorti che c'è stata una risposta. Quindi pur di bloccare queste procedure e quindi pur di bloccare la possibilità dell'evoluzione spirituale dell'essere umano ci potrebbe anche essere l'uscita dell'Italia dall'euro e quindi noi ci siamo prevenuti aggiungendo nella proposta di contratto che gli cittadini e gli esseri umani possono creare moneta scritturale denominata in euro fiat quindi a corso legale e o in altre valute quindi qualsiasi sia la valuta chi si trova nel territorio della penisola italica o della repubblica italiana può sempre secondo le indicazioni e secondo la regolamentazione che abbiamo inviato al governo può creare moneta scritturale. Beh, una rivoluzione copernicana, cari amici, ascoltatori, ovviamente questo sarebbe risolutivo indubbiamente e ci fa riflettere anche sul fatto di come in fondo essendo, come dicevamo nella scorsa puntata anche col professor Paolo Maddalena essendo il denaro stato creato, paraprasando una frase che si trova nei Vangeli di 2000 anni fa essendo il denaro stato creato per l'uomo e non l'uomo creato a servizio del denaro vedete, cari amici, come sarebbe in fondo semplice poter disporre di un mezzo che è quello del denaro che è stato creato unicamente perché gli esseri umani potessero scambiarsi merci e servizi per il normale andamento della loro vita quotidiana ora invece il denaro è stato artatamente sottratto dalla disponibilità della popolazione degli esseri umani per creare uno stato di indigenza quando sarebbe molto semplice il denaro in realtà in se stesso non significa nulla, è solo una convenzione di scambio perché noi la ricchezza per esempio in Italia che ci dico tanto che siamo in crisi che non abbiamo disponibilità, l'unica cosa che manca è questo denaro da poterci scambiare per poterci scambiare tutta la vastissima ricchezza che c'è in Italia culturale, naturale, di tantissimi tipi ma anche da un punto di vista imprenditoriale se non avesse contribuito queste misure, questa austerity, queste misure cui abbiamo aderito con la firma dei trattati di Massic e di Lisbona a completamente distruggere, distrutturare anche la nostra classe imprenditoriale la nostra piccola e media impresa convieni Gian Giacomo sul fatto che alla fine così come è totalmente arbitraria e semplice da parte delle banche come abbiamo visto la creazione attraverso la digitazione su di una tastiera di dei numeri la creazione di denaro per poter permettere alle persone di vivere, di agire di comprare una casa eccetera sarebbe altrettanto semplice poterla fare per l'essere umano e noi siamo automaticamente legittimati a farlo visto che non esiste alcuna legge che ce lo vieta esatto, non c'è nessuna norma che vieta la creazione di denaro nel caso però Gian Giacomo il cittadino che scarica questi moduli li compila e li presenta insomma anche l'istanza come detto tu deve essere presentata ai carabinieri al sindaco, nel caso ci fosse opposizione da parte delle autorità come ci si deve comportare, che cosa deve fare? no, è un'istanza, nel senso è una richiesta, ok no, è una richiesta che si può, allora, l'ufficio di protocollo è un ufficio che portocolla i documenti deve protocollare? è una specie di posta, quindi si porta il documento siccome è intestato al sindaco se un soggetto vuole comunicare con il sindaco deve passare per l'ufficio di protocollo e inviare un documento attraverso l'ufficio di protocollo quindi non può opporsi perché se il dipendente si oppone commette omissione di ufficio lo stesso in casella dei carabinieri viene portato, invece di spedire viene portato a mano un documento nella stazione dei carabinieri e l'essere umano che in quel momento sta svolgendo l'attività di carabiniere con noi molto gentilmente ha preso il documento è firma che ha ricevuto il documento quindi noi abbiamo la prova che abbiamo consegnato un documento nella caserma specifica appone un timbro se glielo chiediamo e abbiamo il documento è molto semplice l'opposizione non dovrebbe esserci perché innanzitutto questa procedura non viene fatta solo per chi deposita ma viene fatta anche per chi riceve perché sia il carabiniere sia i dipendenti statali del comune bisogna quando si va in questi enti suggerire di leggersi i documenti perché anche loro possono utilizzare queste procedure in fondo è solo una comunicazione una notifica sì, è una notifica è una comunicazione quindi loro non fanno altro che accettare e prendere il documento lo tengono se lo leggono e firmano e timbrano per ricevuta quindi non c'è nessuna procedura strana o complessa l'ufficio protocollo è come un ufficio postale che riceve i documenti solo bisogna fare una distinzione tra alcuni comuni rilasciano il timbro mentre altri comuni rilasciano un tagliandino e i comuni che rilasciano il timbro se ci sono pochi dipendenti il numero di protocollo non viene assegnato immediatamente ma bisogna richiedere il numero di telefono si chiama verso la fine dell'orario d'ufficio e via telefono viene dato il numero di protocollo che poi si aggiunge appena sul timbro invece i comuni che rilasciano direttamente il tagliandino con il numero di protocollo viene fatto nell'immediato non dobbiamo spaventarci del comune o del carabiniere perché sono esseri come noi solo che hanno una mansione diversa in questo momento no magari non essendo magari io parlo anche per me stessa se mi dovesse capitare non tanto pronta che ne so non conoscendo bene a fondo le cose si potrebbe trovare come può capitare un'opposizione o semplicemente non può capitare quindi era una domanda un'informazione in più se capita l'opposizione è molto semplice la procedura è molto semplice se c'è un individuo che si oppone alla protocollazione e gli si chiede gentilmente di scrivere le motivazioni dell'opposizione scritte firmate in umido su carta intestata in riferimento all'articolo 10 bis della legge 241 1990 e successive modificazioni e integrazioni Senti Gian Giacomo noi siamo giunti alla fine e visto che abbiamo parlato appunto che tu da rifacendo un zunto da osteopata sei giunto a questo perché ti sei occupato dell'essere umano in quanto tale e quindi perché si ammala appunto perché è stressato che lo stress è dovuto al denaro quindi si è analizzato che l'essere umano appunto non è fatto solo di materia ma anche di spirito e abbiamo analizzato anche la parte spirituale oltre che quella materiale quindi concludiamo a conclusione di questo e a sottolineare questo infatti voi avete messo una frase in latino a rimarcare anche che c'è il lato spirituale oltre materiale in a fondo di questo contratto unilaterale e credo che non l'abbiate messo a caso che importanza c'è questa frase se la vuoi ripetere che io non riesco a pronunciarla bene spiegaci in un minuto Gian Giacomo possibilmente perché siamo veramente in chiusura di trasmissione sì questa è la frase fondamentale che impedisce in tutte le pagine dei documenti che noi produciamo che la frase recita che significa ora come allora adesso è per sempre fino alla seconda venuta di Cristo che è ventura e perché abbiamo aggiunto questa frase perché noi conosciamo che l'essere umano è schiavo anche per le bolle papali che sono state registrate nel 1302 in più tutto il flusso monetario converge in Vaticano e il Vaticano ha anche un ruolo centrale all'interno di quello che è il riciclaggio del denaro mafioso attraverso lo IOR quindi noi annunciamo appunto la seconda venuta di Cristo in tutte le pagine in quanto ci troviamo attualmente nei tempi che sono stati profetizzati nel terzo segreto di Fatima e l'ultima parte del terzo segreto di Fatima appunto riguarda la seconda venuta di Cristo nel mondo quindi ciò sta a significare sia dal punto di vista teologico sia da un punto di vista diciamo canonico un messaggio anche per quella che la curia romana è il Vaticano in più ci sentiamo di affermare che la nostra banca quindi la GST Virtual Bank è la banca di Cristo benissimo Gian Giacomo ti ringraziamo anche di questa ultima spiegazione veramente hai affrontato questo tema a 360 gradi siamo in estrema chiusura perché stiamo arrivando all'ora di trasmissione ti ringraziamo tantissimo di avere partecipato alla nostra trasmissione con questa intervista a cui pianeta terra e ricordiamo con Ludovica tutti i punti di riferimento su internet per seguire il tuo discorso che potete trovare su internet oltre la modulistica per che potete compilare per seguire questa procedura proposta dalla GST Virtual Bank anche dei video dove Gian Giacomo appunto vi rispiegherà sulla pagina Facebook poi adesso do tutti i dati cosa inconsiste questa la GST Virtual Bank e questa procedura messa in atto da lui e dal suo staff per cui visitiamo la pagina Facebook Gian Giacomo Savugin Trust Virtual Bank il canale Instagram GST Virtual Bank e poi il blog il blog contratto unilaterale moneta scritturale blogspot.com spero di aver detto giusto per chi non avesse fatto in tempo a scriversi tutto tra poco andremo anche sul canale YouTube per cui puoi riascoltare la trasmissione e riseguire ecco queste indicazioni che qua all'ultimo nella trasmissione abbiamo dato per seguire la GST Virtual Bank di Gian Giacomo Savugin bene bene quindi ti ringraziamo nuovamente Gian Giacomo un saluto a voi e niente come sempre quindi ci potete scrivere alla nostra mail qui pianeta terra news chiocciola gmail punto com riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube qui pianeta terra sulla nostra pagina facebook benissimo Dovica ora è davvero tutto grazie ancora di nuovo un saluto a Gian Giacomo Savugin con cui ci auguriamo di ci sentire in una prossima trasmissione e seguiteci come sempre sui nostri sul nostro canale YouTube alla prossima puntata di qui pianeta terra su radio Outmark chiaramente radio Sius ed emittenti collegate e viva radio ciao a tutti a risentirci Grazie a tutti